Consideriamo un triangolo qualsiasi e uno dei suoi angoli esterni. Possiamo verificare che esso è congruente alla somma dei due angoli interni non adiacenti ad esso. Consideriamo poi anche gli altri due angoli esterni e vedremo che anche in questo caso si verifica la stessa cosa. Infatti il teorema dell'angolo esterno ci dice che in un triangolo qualunque ogni angolo esterno è congruente alla somma dei due angoli interni non adiacenti ad esso. Da questo teorema deduciamo anche il teorema della somma degli angoli interni di un triangolo. La somma degli angoli interni di un triangolo qualunque è congruente a un angolo piatto. Valgono perciò i seguenti corollari. 1. In ogni triangolo rettangolo gli angoli acuti sono complementari. 2. Ogni angolo di un triangolo equilatero è la terza parte di un angolo piatto, quindi è uguale a 60 gradi. 2. Ogni angolo di un angolo piatto, quindi è uguale a 60 gradi.